Proprio oggi la notizia. Antonio Vanacore ha perso la sua battaglia contro il covid-19. L'allenatore in seconda della Cavese aveva contratto il virus intorno al 17 febbraio scorso. Dopo di lui è toccato ad altri, tra calciatori, dirigenti e staff tecnico, ma Vanacore è stato colpito da una forma evidentemente più aggressiva che lo ha portato al ricovero in ospedale, fino al decesso, comunicato questo pomeriggio dalla società metelliana. Di conseguenza anche la conferenza stampa dell'allenatore Salvatore Campilongo, che la Cavese aveva programmato per oggi, è stata annullata. Già numerosi i messaggi di condoglianze su social nel momento in cui è uscita la notizia, prima ancora che la società metelliana la comunicasse. E anche diversi tifosi di diverse squadre si sono uniti al cordoglio dei Cavesi. Comunque in segno di lutto la nostra trasmissione Aquilotti Social Club, che sarebbe dovuta andare in onda martedì sera, è stata cancellata. La notizia della scomparsa di Vanacore è stata resa nota poco più di 24 ore prima dell'incontro tra Cavese e Catanzaro, calendarizzato appunto per domani pomeriggio alle 17.30 e la società metelliana si è attivata immediatamente, prima con il Catanzaro stesso e poi con le autorità sportive, per approntare un'istanza di rinvio per lutto. La società calabrese si è detta subito disponibile ad andare incontro alla Cavese, quindi a giocare in un'altra data che sarà sicuramente il 24 marzo con inizio alle ore 15. E su tutti i campi della Lega Pro, nelle partite in programma in questo turno di campionato, si osserverà un minuto di raccoglimento. Antonio Vanacore, classe 75, nato il 20 di luglio a Pozzuoli, era stato anche calciatore, giocava terzino sinistro, ha riportato 22 presenze in serie B proprio col Catanzaro e dopo il calcio giocato ha seguito Campilongo alla Cavese come collaboratore. Il decesso di Antonio Vanacore peraltro è il primo di un componente di un gruppo squadra di una società professionistica causato dal nuovo coronavirus nel calcio italiano. C'erano state anche altre morti nel nostro calcio per questa ragione ma avevano riguardato principalmente altre cariche e questa disavventura avviene in un'annata davvero disgraziata per la Cavese. Fin dal primo giorno di raduno c'era stato un contagio, poi il minifocolaio d'autunno e successivamente i contagi delle scorse settimane, oltre all'ultimo posto nel C che adesso passa comunque in secondo piano.